Presentato il rapporto Svimez 2013, Sud a picco, PIL in ribasso oltre alla media nazionale, l'ultimo dato della campagna segna un preoccupante meno 2% di disoccupazione e desertificazione industriale, i punti critici. Il servizio è di Biagio Soave. Il Sud che arranca in un'Italia in recessione, PIL del mezzogiorno meno 3,2% contro il 2,4% di media nazionale. I dati del rapporto Svimez, snocciolati dal direttore Riccardo Padovani, il Presidente della Repubblica Napolitano li ha definiti nel suo telegramma di saluto inquietanti. Il quadro per regione, Campania e Molise meno 2,1%, Puglia e Calabria meno 3 e meno 2,9%, a seguire Abruzzo meno 3,6%, Sardegna meno 3,5% e in coda Basilicata e Sicilia, rispettivamente meno 4,2% e meno 4,9%. Il Ministro Trigilia ha detto che va praticamente cambiato l'approccio al problema ed ha proposto un'agenzia nazionale per governare i flussi finanziari. La situazione naturalmente è molto grave, cioè in un Paese che soffre molto per la crisi più grave dal secondo dopoguerra, il mezzogiorno è colpito particolarmente. Altri dati del rapporto, disoccupazione al 28%, 2 milioni e 700 mila abitanti meno in 20 anni, crollo dei consumi e la povertà che insidia il 60% delle famiglie. Presenti al rapporto oggi solo i governatori di Abruzzo, Campania e Puglia, Chiodi, Caldoro e Vendola.